Ed ecco, interrompiamo il padre di Corrado Agia soltanto perché ci è venuto a trovare Federico Rampini con cui abbiamo l'opportunità di parlare di nuove tecnologie internet e di come certe promesse che ci sono state fatte dalle nuove tecnologie che abbiamo raccolto, che abbiamo creduto di raccogliere ormai qualche anno fa non sono state esattamente mantenute, alcune sono state addirittura tradite. Ecco, Federico Rampini, nel suo ultimo libro lei affronta questo tema che è abbastanza spinoso perché bisogna un po' fare il reality check, bisogna andare a vedere quanto di quello che ci è stato promesso è stato mantenuto o meno. Ecco, qual è la situazione? Partiamo da questo. Beh, intanto Rete Padrona per me è un reality check che ha quasi un sapore autobiografico perché io ho vissuto a San Francisco nella Silicon Valley all'epoca della prima New Economy, mi trasferì là nel 2000 e ci ho vissuto quattro anni e quindi ho conosciuto da vicino quei protagonisti di una promessa fantastica, di un internet come uno spazio aperto, accessibile a tutti, gratuito, quindi ipso facto, democratico, egualitario e liberatorio. E poi ho visto man mano maturare i grandi tradimenti, cioè quello spazio pubblico è stato appropriato da nuovi monopoli, quelli che erano gli stessi protagonisti che poi ho frequentato da vicino, che erano da giovani degli hippie, dei libertari, dei trasgressivi, degli anarchici, perché questa è stata un po' una parabola comune a tutti, da Steve Jobs fino a Larry Page, Sergey Brin, Zuckerberg, si sono trasformati in monopolisti arroganti e si sono appropriati di quel bene pubblico che è internet, a volte non ce ne rendiamo abbastanza conto di quanto internet sia diventato una proprietà privata. Sono passati dall'altra parte alla barricata letteralmente, nel momento in cui hanno fatturato, è questo forse, no? E mi colpisce, anche perché adesso io invece abito a New York e quindi vivo molto vicino a un altro cuore del capitalismo che è Wall Street, la finanza, la convergenza malefica tra queste due forme di capitalismo, perché in realtà Wall Street si è innamorata dell'economia digitale, basta vedere le quotazioni, Apple è l'azienda a maggior capitalizzazione di borsa, proprio in questi giorni tra l'altro si avvicina al collocamento di un gigante cinese del commercio online, gigante dell'economia digitale cinese che si chiama Alibaba e a Wall Street sono impazziti di gioia, quindi c'è proprio una sorta di alleanza che si è formata tra quello che era il capitalismo di sinistra, liberal, progressista e trasgressivo della California e il vecchio capitalismo, la pace dei banchieri. E quindi si crea una prospettiva che forse è anche più inquietante di quella che avevamo diciamo così di fronte quando ci riferivamo soltanto a certi poteri forti, perché questa gente ha in un modo nuovo, diverso e molto più pervasivo in mano le nostre vite, perché tutto quello che noi facciamo a livello di comunicazione, di interazione, di condivisione, di quello che è la nostra esperienza quotidiana, che sia professionale o che sia privata, passa per dei canali che sono comunque presidiati da un'azienda privata che deve fare business, che deve fare fatturato. Una cosa che mi colpisce tra l'altro a questo proposito è quanto noi siamo pronti a indignarci quando scopriamo il livello di intrusione degli spioni tradizionali, cioè lo scandalo della National Security Agency, il cosiddetto DataGate, ha giustamente avuto grande attenzione, ma non ci rendiamo conto di quanto noi giorno per giorno, nella nostra vita quotidiana, attraverso l'uso che facciamo di internet, anche semplicemente per mandare delle email, oppure i social media, social network, ci denudiamo letteralmente, ci consegniamo senza nessuna tutela della nostra privacy ad una forma di spionaggio a fini di lucro privato. Ovviamente c'è lo spionaggio politico, militare, ci sono i regimi totalitari che hanno imparato a usare molto molto bene la rete, io ho vissuto anche cinque anni in Cina, ho visto cos'è internet in Cina, lo usano tantissimo, ma c'è un livello di manipolazione molto sofisticato, quello che però ci trova meno vigilanti, meno attenti, è proprio lo spionaggio quotidiano a fini di profitto privato. Sì, infatti quando si descrivono queste realtà che sembrano voler agevolare l'utente, inteso come cliente in questo caso, per esempio nell'acquisto, una scelta di cose che lo riguardano, queste pubblicità che sono fatte e costruite con algoritmi specifici per portarti dei prodotti che siano relativi o in qualche modo abbiano a che fare fortemente con i contenuti che tu condividi, che tu vivi, che tu leggi, perché così insomma vengono incontro i tuoi interessi, viene presentato come un servizio e in realtà è una forma di controllo, è una forma di invasione della privacy, no? Sì, ed è uno snaturamento progressivo, non era così fin dall'inizio, mi riferisco in particolare a come è nato il motore di ricerca Google, che ormai è veramente uno strumento universale, a volte lo usiamo senza neanche saperlo, cioè molti dei nostri smartphone, i telefonini, quando facciamo una ricerca di una notizia, di un luogo, di un indirizzo, automaticamente stiamo usando il motore di ricerca Google, se il software è Android, per esempio tutti i telefonini Samsung, quindi non lo sappiamo nemmeno quando stiamo usando Google. Google nasce con un algoritmo che è fondato su quella che gli informatici chiamano la saggezza delle folle, cioè all'origine la specificità e anche l'efficienza dell'algoritmo di Google era quando io cerco un termine, loro sfruttano la frequenza delle risposte per darmi la risposta giusta, cioè si fidano del fatto che evidentemente quel sito è stato il più cliccato da tutti gli altri, probabilmente quello che interessa di più anche a me. Col passare del tempo quell'algoritmo è stato truccato, in modo che i risultati possano essere manipolabili favorendo le società direttamente controllate da Google, oppure tutti coloro che sono disposti pur di vendermi un prodotto a pagare Google. Quindi non è più vero che l'algoritmo è neutro, è un algoritmo truccato a pagamento. Eppure è la finestra per milioni, miliardi di persone per tutto quello che c'è, è lo scibile che sta in rete, quindi questo dà la dimensione del problema. Al punto che in inglese è diventato un verbo to Google, vuol dire semplicemente cercare su internet, è diventato un verbo di uso corrente nei dizionari. Ecco, lei prima ha accennato alla Cina, tornando dalla Cina dove è stato inviato, ho scritto anche un libro, si chiamava, mi ricordo, intitolava Il secolo cinese, dove parlava più che altro di come la Cina si stia avviando a dominare quest'epoca. Ecco, però dal punto di vista invece dell'uso dei social, come accennavo, volevo capire, si stanno affermando, sono uno strumento straordinario se usati in un certo modo di controllo, ma riescono in qualche modo a, come posso dire, a innestare il seme della libertà, in qualche modo di espressione di parola, cioè riescono a essere usati in quel senso, lei che ha una visione di quello spazio all'inno? No, questa è una delle promesse tradite di internet. Bill Gates, che certo non è una persona stupida, fece una profezia, disse un po' di anni fa, internet porterà la libertà e la democrazia in Cina. E questo è tipico di un modo di pensare tecno-ottimista, o addirittura di un feticismo delle tecnologie. Lo stesso errore si è ripetuto con le primavere arabe, quando a un certo punto erano state definite le rivoluzioni di Facebook e di Twitter. In realtà, quello che accade in Cina, da una parte c'è questa straordinaria sofisticazione della censura cinese, internet esiste in Cina, io lo usavo quotidianamente per il mio lavoro, però è filtrato e ci sono dei software automatici che impediscono l'accesso a certe notizie. In più, su questo si innesta l'uso dell'ideologia, e cioè il nazionalismo cinese è stato alimentato dal regime, in modo tale che anche quando i cinesi potrebbero avere accesso a una controinformazione, non ci credono, perché pensano che tutto ciò che viene dall'Occidente in qualche modo è ideologia. Io ho visto, per me, delle esperienze anche più dolorose, ho anche insegnato in una università cinese a Shanghai. I miei studenti avevano del Tibet e del Dalai Lama una visione completamente distorta dalla propaganda cinese, ma ci aggiungevano addirittura loro un di più di livore contro l'Occidente, convinti che il Dalai Lama sia una marionetta, un pupazzo nelle mani dell'Occidente al servizio di interessi stranieri contro la Cina. Il nazionalismo è un alleato formidabile di questi regimi, vale per la Cina come per la Russia. È notevole come quello che è nato come lo strumento e che si presenta, che sulla carta è lo strumento per la maggiore libertà di espressione di pensiero, di fruizione delle informazioni, quindi per costruirsi una propria milione, sia un potente strumento di manipolazione propagandistica che avrebbe fatto la felicità di molti regimi in realtà. E questo è anche inatteso se ci pensa, no? È inatteso, c'è qualche artista geniale che ha riscritto Orwell adattandolo alla società digitale. C'è questo bellissimo romanzo di Dave Eggers, che non credo sia stato ancora tradotto in Italia, il cerchio, che è veramente il 1984 di George Orwell ripensato per l'economia digitale. E il regime totalitario si ammanta proprio alle caratteristiche di Google. È una specie di distopia ambientata dentro la sede californiana di Google, che è un posto meraviglioso, ma anche con delle inquietanti derive totalitarie. Certo. Ecco, però, dopo tutto quello che abbiamo, abbiamo identificato i problemi. Possiamo parlare un attimo di opportunità e di prospettiva? Cioè, alla fine, possiamo intravedere alla fine di questo tunnel di controllo e di promesse tradite e anche un po' di luce, insomma? Di luce ce n'è tanta. Io non sono un tecnofobo, ci mancherebbe altro, avendo vissuto in California, vivendo ancora adesso negli Stati Uniti. non sono, dire, profeta di un ritorno a una specie di medioevo. Tra l'altro nel mio mestiere di giornalista ho goduto dei benefici indubbi delle nuove tecnologie. Io adesso, con il Wi-Fi, quando sono in volo tra New York e San Francisco, a 10.000 piedi di altitudine, posso consultare Wikipedia, scrivere un articolo, consultare tutte le agenzie, i siti dei giornali. Che le invidio arriva in Europa. Arriverà anche in Europa. Abbiamo sempre una lunghezza di anticipo ancora negli Stati Uniti, nell'adozione del Wi-Fi anche sui voli. Ma, a parte il discorso di come è cambiata, è stata veramente rivoluzionata la professione dei giornalisti, ma un contadino africano oggi, attraverso uno smartphone, ha a sua disposizione una potenza di calcolo e di informazione superiore a quella dei computer della NASA quando facevano le spedizioni sulla Luna, il programma Apollo. E il contadino africano lo sta usando, perché, per esempio, per le previsioni meteorologiche, che sono importantissime ai fini dell'attività agricola, dei raccolti, ma anche le informazioni sui mercati. Quindi queste potenzialità esistono e sono già utilizzate a fin di bene. Certo. Prima di chiudere, un attimo una riflessione che lei ha in qualche modo accennato, comunque anticipato, cioè noi siamo al Festival della Comunicazione di Camogli, dove si parla anche ovviamente di informazione e giornalismo. Come l'avvento della rete, delle nuove tecnologie, dei social network, ha cambiato il giornalismo secondo lei in bene e in male? Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza? Brevemente, mi rendo cosa che è un argomento ampio. Allora, punti di forza, ovviamente la possibilità di accesso all'informazione è stata ingigantita. anche la possibilità di controllo che i lettori hanno su di noi. Perché anche se io sono inviato in Tibet e racconto ai miei lettori quello che sta succedendo in Tibet, se sbaglio delle informazioni sui luoghi o sulla storia del Tibet, e un lettore che sta in Italia, che in Tibet non è mai andato, consultando Wikipedia mi può smentire, mi può correggere, può rettificare un errore. Quello che sta cambiando in peggio è il fatto che i giornali sono a rischio di estinzione. Anche i più grandi giornali del mondo, anche il New York Times, è in una fase molto critica. Quando non avremo più degli inviati in Siria e in Iraq, come quei due giornalisti americani che sono stati decapitati dai jihadisti, quando i giornali non potranno più permettersi la spesa di avere delle reti di corrispondenti estere, chi ci informerà di quello che accade in quelle terre? La risposta è semplice, sulla Siria ci informeranno o i jihadisti stessi, con i loro video, oppure la CIA, oppure Al Jazeera, che è finanziata dall'emiro del Qatar, che ha una sua agenda politica e che ha un suo ruolo politico in quella parte del mondo, ma rischiamo di essere alla mercè di sistemi e strumenti di informazione che sono molto poco trasparenti. Certo. Bene, io ringrazio Federico Rampini che ci deve lasciare perché deve andare appunto a raccontare nel suo intervento qui al Festival di Camogli le cose che ci siamo detti qui. Restituisco la linea al padre del Corrado Augas, ricordo semplicemente una cosa, chiunque acceda alla rete e usi i servizi internet, uno degli adagi che girano in Silicon Valley e che secondo me hanno più senso è sempre questo, e dice se tu stai accedendo a un servizio online e non paghi il prodotto sei tu, quindi è meglio che fai un uso consapevole di quello che stai facendo considerando questa cosa. Grazie.